Alisti, oggi voglio condividere con voi come disegnare un tulipano sul cappuccino composto da due elementi. Lo volete vedere? Ma certo, andiamo a farli insieme. Andiamo a versare dall'alto, come vedete nel video, per preparare una bella base marrone, lucida e setosa. Facendo un piccolo movimento rotatorio, come vedete, con tutte e due le mani. Ovviamente facendo un disegno così semplice, che comporta soltanto due versate, andiamo un po' più su con la base. Appoggiamo la lattiera sul bordo della tazza, facciamo la prima versata, come avete visto, e dopodiché leggermente all'indietro facciamo la seconda, come se facessimo un piccolo cuoricino, come vedete qui nel video. Poi successivamente tiriamo leggermente sulla lattiera, facciamo un piccolo decollo e andiamo a fare il taglio in avanti. Un disegno semplice, pulito, ma fa sempre la sua bella figura. Se anche tu vuoi entrare a far parte di questo bellissimo mondo, scrivimi, ti posso aiutare. Un saluto da Tim Il Barista, ciao!